Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti ragazzi Qui con me c'è Thomas Non capisco perché devo tenere l'auricolare Anche se non c'è perché sono in gruppo Allora praticamente siamo qua Con il commentary Il live Come l'hai chiamato Il live del mercoledì Qua su mv3 Se Ha intenzione di far partire la partita Infatti Quitta Ci butta fuori Cerchiamo la partita Il miglior ritorno su mv3 Sì infatti Allora Il ratio ovviamente Non è positivo Ok Uno dei migliori cose Giocherò con l'msr Se tutto andrà bene Ovviamente Partita permettendo Scegliava la partita intanto Scegliava la partita intanto La partita sul lockdown Che mappa che era questa Mamma mia Che mappa era Proprio È una delle migliori secondo me Dopo dom vabbè Termina Termini Ok Connessione a uno Immaginavo La connessione tra me e Alex È una delle migliori Oh mamma Ok via Oh non faccio Neanche a tempo di sparare Che giorno Intanto Volevamo Viaggi che Di Pia 5 Non è ancora Oh Oh Che potendo Oh Only shit Ma vaffanculo Sì ma dai Guarda che Connessione Vabbè Se ti arrivo Non è ancora Arrivato Devo prendere il premio Deve partire dal Canada Quindi È partito È partito Ok Sì Mi fa Grazie Fa male Oh c'è un camper là Eh sì ma Se riesco a andare La connessione È fornante Eeeh La kicker Dopo una sonda Questa partita Sembra più La partita è la glose Bestemmi Fumosa E la scala E anche di Dio No Eh beh Allora facciamo così Io tra un po' Quitto E cambio un'altra partita Perché Non si può Wow È dopo una sonda Non si può Nessuno è un trick shot Non lo sai Oddio Se era il trick shot Dell'anno Era quello No Vabbè Quinta Quinta Sì Bene E anche qui ci sarà Un intermattito Molto troll Quella cartuzza Lo faremo E Sì sì Ok bene ragazzi Qua Prenderemo Una moab Una testa Perché appena lui Prende la moab La prendiamo Otti Allo stanza No Arriva il goal Bad kitty E ci rovina la scena Ok va bene Qui gioco solo io Alessio E Gene E I pro I pro Perché sono Comunque Devo dire che L'altro giorno Stavo giocando Su pc Mi trovo Un inglese Che si chiama Genetic pro Ma va E ho pensato C'è un bitone Connessione a uno Allora proprio La mia connessione È la connessione Ronaldo Secondo me Compaglia Ronaldo 4 3 2 1 LS2 Sì È ingiocabile Sì Infatti Mi sa che questo live L'ho buttato Vabbè Non è vero Non è vero Eh 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 Ok via Ma è troppo M1 3 Perché prima su B2 No no Subbleto 2 Prima viaggiava Che era un piacere Però Non capisco Volevo fare Il rovcio nuclear Su P2 Ma Sì Infatti Provi tritti Riusciremo a fare una kill Ma Secondo me Però quanto Uè Eh sì Il P90 Quando scatta Allora L'argomento di questo live È un cazzo Il live del Marco D Sarà Sarà Sì Oddio Non ho idea Oddio Guardalo No Un attimo Dovevo fare una domanda Connessione ancora Beh A parte la connessione Che sdroghizza No dai Da qua Ok Ma che video vi piacerebbe vedere Su GTA 5 Siccome nessuno ha fatto le missioni Ci sarebbe l'opportunità di fare le missioni Però Qualcuno può dare fastidio Perché ti dice Ah spoiler E quindi Non lo guardate Se vi va E facciamo le missioni No facciamo online Beh sicuramente Comunque facciamo online Vabbè Ehm Qua c'è qualcuno Buona che tira giù Buona che tira giù Sì Dovremo chiamarla Il lag Del mercoledì Beh Anch'io Ehm Le mie connessioni Non so se hai visto l'altro video Ma Beh certo Ne li partono i colpi L'MP7 Altra arma Ok via Eh la prima fila è fatta Quindi il primo obiettivo È morto Cosa faccio Vabbè Fine è wrong I feel we're wrong Oh Oh Eh hate marker così ha Ha puro scopo Inlutrativo Lui gioca E beh Pensò di aversi quattro Oddio Non si può giocare Non si può giocare I due MP7 No MP7 È chifo Guarda che schifo Il ritorno migliore Il suo anno Il 3 della storia Che non ce ne tocca No Me la ciava Allora Lasciamo a 2 3 Dai dai Anche ora Madonna Meno 20 5 La mob Era 25 Io l'ho detto Prenderemo la mob Non è vero Non è vero No Ecco si è finita anche la partita Cioè ragazzi Proprio sconfitto De l'uso Questa partita Non è niente È stata una fortuna E beh Ma mamma Un culo Se suona Ficca Un giuro che Pubblichiamo questo video Così Non è vero Non è vero Non è vero Non è vero È lui No 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 Non è lui Vabbè raga Allora Il video è finito Quindi dovete scriverci Sono titoli Che state vaghe Vabbè Se le mischiamo In line Cosa c'è altro Basta Sì Il prossimo live Del mercoledì Si aprirà una nuova serie Natale Quando anche io Prenderò l'Xbox GTA 5 online Tra tutt'altra cosa Quindi chi avrà GTA 5 Anche dei nostri amizi O Roba così Fans Facciamo la view E siamo a posto Sì Quindi Il prossimo live Anche di creazione E' limito Vabbè Il video è finito Andiamo a giocare A Black Ops Andiamo a giocare A Black Ops Per provare di nuovo Il contest Il contest Bello Non c'è niente da dire Ci vediamo Bella Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti.